Ciao a tutti e benvenuti, sono Parafranz. Ho qui sulla mia scrivania Mora Companion MG. Mora è una casa che produce i propri coltelli in Svezia e ciò deve essere una garanzia per questo coltello perché è un coltello da l'ottimo rapporto qualità-prezzo, veramente versatile e robusto. Prima di aprirlo vi do qualche dato, ovvero abbiamo una lama di 10 cm, un'impugnatura, un manico insomma, di 12 cm per una lunghezza totale di 22 cm. Il materiale della lama è un acciaio Sandwick 12C27, un acciaio veramente ottimo che garantisce una lunga durata del filo della lama. Ecco qua che ve lo mostro, l'abbiamo messo a nudo completamente. Come vedete la prova che questi coltelli sono fatti in Svezia, abbiamo anche il logo della marca. Concentriamoci sull'impugnatura, abbiamo un'impugnatura di due materiali plastici, una plastica verde più dura e una plastica nera morbida al tatto che garantisce un ottimo grip durante l'utilizzo. Questo coltello si dimostra appunto molto robusto perché il codro della lama supera i tre quarti del manico, facendo sì che questo coltello non si fletta e non si spezzi durante l'utilizzo. Consiglio questo coltello soprattutto per attività outdoor e soprattutto, che ne so, per le escursioni, per la caccia. Perché è un coltello che si può lavare, è in plastica, non ci sono materiali pregiati da curare. È un po' un coltello grezzo che si può usare senza troppa cura. Ovviamente la lama va curata come qualsiasi coltello. Per questo video è tutto da Parafranz, ci vediamo alla prossima recensione.